Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete insieme a DJFair98 e questa volta continuiamo la nostra serie di vittorie cerchiamo di vincere la nostra quinta gara di fila come dal precedente episodio di questa mappa che vedete nello sfondo di questa gara che siamo partiti male però alla fine siamo arrivati ai secondi quindi non è proprio male come risultato per la prima volta che ho utilizzato quest'auto quindi andiamo alla prossima gara, non so che diavolo di gara sarà, sempre ovviamente la modalità multiplayer quindi io voto per la categoria infezione anche se nessuno voterà infezione, comunque c'è mio dubbio infatti classica, modalità classica, siamo 8 su 8, si siamo 8 giocatori e niente, ci vediamo al vivo della partita, della corsa ma perché? Sempre partita, vabbè, a dopo, ok, ci siamo, partita pronta, è pronta anche noi col joystick e intanto ho avvicinato troppo il mio microfono, la mia bocca al microfono, ok, questa mappa non ricordo, no, credo sia la mia prima volta in questa mappa sì, è la mia prima volta nelle altre, ok, la mia prima volta, speriamo di andare bene come la partita scorsa che ho avuto proprio una botta di QLM perché lui ha fatto l'incidente proprio all'ultimo momento, ok, allora, vediamo un po' com'è la manovrabilità in questa non ho, cioè, non ho parole, vabbò, sono partiti con la nitro, tutto prendiamolo, uh, doppio, doppio avvitamento, intanto non siamo ultimi, siamo attaccati, no, siamo sessi, siamo sessi, ok ok, ok, la macchina è vero, mi piace molto quest'auto, eh, anche se ci devi abituare perché la manovra no, 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 che cazzo succede? Madonna, che cazzo è successo? Siamo quinti, no, siamo quarti oh mio dio, sono tutti attaccati, sono tutti attaccati dietro a noi, non ci posso credere ok, siamo quarti vediamo un po' di arrivare, dov'è, dov'è il secondo e il primo? proprio ci hanno, stanno un bel po' davanti a noi, comunque, a quanto pare no, non c'ho manco la nitro, cribio cribio, oh, no, no piccocchio, no, ma dai, ho un bug oh dio, oh, oh mio dio ne stanno succedendo di tutti i colori, ragazzi ne stanno succedendo oh baby me lo fai un abitamento? bellissima siamo, siamo terzi, ok, terzi vediamo di superare quel secondo che ci vuole fare intanto abbiamo fatto il, abbiamo concluso il primo giro, siamo al secondo facciamo un altro abitamento dio, non ci vedo ok vediamo un po' di distaccarci dagli altri perché altrimenti se faccio un incidente mi rattoppano tutti quanti il secondo è ancora un po' distante sono tra il quarto e il secondo tra la distanza molto simile e passiamo sul ponte oh, ce l'abbiamo vista lo vediamo, si vede, si vede tutto con la nitro al massimo vediamo un po' se riusciamo ad avvicinarci no, ha cambiato strada si, ha preso la scorciatoia bastardo anche se non è tanto più corta però quei pochi metri garantisce un maggior distacco intanto il quarto si sta proprio appiccicando a me oddio buono, buono, buono ok, strada libera terzi oddio ci devo ancora fare un po' di abitudine con quest'auto no, 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 no oh, buono no, mi sono preso un colpo facciamo un doppio abitamento buono tre secondi e quaranta in volo mazza non male come risultato e c'è il terzo alle calcagna uuuu buono, buono terzi buon risultato anche se potevo andare un po' più veloce però non volevo rischiare di fare incidenti incidenti in questa partita quindi vabbè spero vi sia piaciuto questo video ragazzi vi invito a lasciare un bel like a condividere seguirmi sulla pagina di Tzu dove pubblicherò i classici aggiornamenti di Stato e alla prossima da DJFair98 questo è tutto ciao madonna quanto ho preso quanto ho eh, buono e abbiamo fatto anche la serie di vittorie quindi guadagniamo 1150 in più ok, ciao nooo rada arriva di Cittoni no non ci posso no no ma no ma non è possibile guardate ci sono sempre con i cittoni grazie 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 grazie